Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono intervenuta molte volte in quest'Aula, da Deputato, da Vicepresidente della Camera, da Ministro della Gioventù. Eppure la solennità è tale che credo di non essere mai riuscita a intervenire senza che in me ci fosse un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale ovviamente a maggior ragione oggi che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un Governo da me guidato. Una grande responsabilità per chi quella fiducia deve ottenerla e meritarsela e una grande responsabilità per chi quella fiducia deve concederla o negarla. Sono i momenti fondamentali della nostra democrazia, ai quali non dobbiamo mai assuefarci. Per questo voglio ringraziare da subito chi si esprimerà in quest'Aula, secondo le proprie convinzioni, qualsiasi sia la scelta che farà.